L'orizzonte verso il quale l'uomo di mare tiene fisso lo sguardo e il coraggio di andare controcorrente nonostante la tempesta. La giornata di Papa Francesco a Genova è l'occasione per confrontarsi con tante realtà differenti, ma specialmente per invitare tutti a restare saldi nella fede. La prima tappa del pontefice nel capoluogo Ligure è lo stabilimento Ilba per l'incontro con il mondo del lavoro. Rispondendo a braccio alle domande di un lavoratore, una lavoratrice, un imprenditore, una sindacalista, Papa Francesco mette a fuoco l'importanza del binomio lavoro-dignità e rimarca che intorno al lavoro si edifica l'intero patto sociale. Tra gli applausi entusiasti di migliaia di caschetti blu e gialli mette in guardia da una società edonista incapace di capire il valore del sudore, così come da una società che agevola più gli speculatori che diffondono un'economia senza volti che i buoni imprenditori che non vogliono licenziare i propri lavoratori. Deve essere chiaro che l'obiettivo vero da raggiungere non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti. Ci siamo preparati abbastanza perché abbiamo cercato di strutturare una parte di magazzino che l'abbiamo pulito proprio per ospitare il Papa e ospitare anche gli altri miei colleghi nel mondo del lavoro a Genova. Quello che aspettiamo è che tutta l'Italia con la presenza del Papa faccia vedere l'attività di Genova e il mondo lavorativo di Genova. Il problema del lavoro è un problema gravissimo per tutto il paese e in particolare però per la nostra città che nel tempo ha perso molto del suo tessuto industriale, lavorativo, occupazionale e per decenni ha avuto delle serie difficoltà per noti motivi circa l'attività portuale. Anche se adesso, ecco, da qualche anno le cose cominciano sotto questo profilo ad ampliarsi. I lavoratori che hanno partecipato a migliaia sono stati molto grati al Santo Padre per questa sua attenzione e per quelle parole forti, chiare, nette che ha detto a riguardo del lavoro. Non sono parole nuove ma sono parole ripetute dal Papa in un contesto tutto particolare che sicuramente hanno dato un grande impulso e hanno inciso, incideranno, ne vedremo poi anche i frutti, su tutti i presenti. Anche l'incontro nella Cattedrale di San Lorenzo con i Vescovi della Liguria, il clero, i seminaristi e i religiosi della regione, i collaboratori laici della curia, i rappresentanti di altre confessioni, è animato da domande e risposte. Il Pontefice parla della crisi delle vocazioni, della tendenza al chiacchiericcio che porta a tradire i propri fratelli, della diocesanità, ma soprattutto dell'entusiasmo e della gioia di essere testimoni del Figlio di Dio, una testimonianza che deve essere resa senza essere statici, in modo creativo, perché Gesù trascorreva la maggior parte del tempo per strada tra la gente, preferendo i rapporti alle strutture. Non dobbiamo avere paura al movimento e alla dispersione del nostro tempo, ma la paura più grande alla quale dobbiamo pensare o immaginare è una vita statica, una vita del prete che ha tutto ben risolto, tutto in ordine, strutturato, tutto è al suo posto, gli orari di qualora a qualora si apre la segretaria, il tempio si chiude ad allora, tutto è io. Io ho paura al prete statico. Il clero genovese, che è composto da circa 280 sacerdoti diocesani e da un bel numero di sacerdoti religiosi, è un clero per lo più anziano, però da qualche tempo è stata avviata così, mi sembra un bel lavoro, grazie all'insistenza del Cardinal Bagnasco, un bel lavoro di collaborazione tra noi sacerdoti, per cui indubbiamente le vocazioni non sono mai abbastanza, però credo che oltre al numero sia determinante così una sintonia, una collaborazione, uno spirito di comunione in cui giovani e anziani ci aiutiamo e così anche con la vita consacrata e con le suore. Il santuario della Madonna della Guardia è la cornice dell'incontro tra Papa Francesco e i giovani della missione diocesana, oltre 2700 ragazzi ai quali il Pontefice chiede di non essere ipocriti, semplici turisti della vita, ma di fare compromessi con l'esistenza, di accogliere l'invito di Gesù, l'unico capace di renderci gioiosi. Essere in missione, insiste, ancora sollecitato da quattro domande, vuol dire imparare a guardare la realtà con occhi nuovi, vuol dire imparare ad amare davvero, soccorrere, soprattutto nelle situazioni di degrado, riconoscendo negli ultimi il volto di Gesù. In una società dove troppo spesso si usano gli aggettivi per giudicare le persone, la raccomandazione di Papa Bergoglio è imparare a riconoscere i nomi, le persone con tutto il loro bagaglio di dolori e attese, amando tutti. Per essere discepolo ci vuole lo stesso cuore di un navigatore. Orizzonte e coraggio. Se tu non hai orizzonte e sei incapace di guardarti anche il naso, non sarai mai un buon missionario. Se tu non hai coraggio, mai sarai... È l'avventura dei navigatori, sanno leggere l'orizzonte e andare e il coraggio per andare lì. La Chiesa Genovese, attraverso le parrocchie, le associazioni, i movimenti, continua a raccogliere un certo numero di giovani. Indubbiamente i ragazzi che non frequentano la Chiesa, che sono allontanati da praticare il giorno, sono tantissimi. Per cui quello che forse vorremmo chiedere al Santo Padre, allo Spirito Santo, è quello di un rinnovato così slancio missionario, la capacità di, là dove i giovani vivono, a scuola, all'università, nel posto di lavoro, riuscire a parlare loro della presenza di Gesù Cristo in questi luoghi, ecco, in questa ordinarietà e non soltanto nella straordinarietà di alcuni eventi, che Gesù è sempre vicino a loro. Io credo che la Chiesa oggi, come dice più volte Papa Francesco, debba smettere di essere autoreferenziale, quindi più proiettata all'esterno. Il giovane dovrebbe essere un giovane che questa corsa verso l'esterno la sogna, la tira, ecco. Quindi stimolare i giovani in questa direzione, credo che sia una marcia in più, che deve mettere non solo nel giovane, ma in una Chiesa. Qui alla Guardia non vengono tutti i giovani, ma una rappresentanza dei giovani. La nostra diocesi da un po' di tempo si è, come dire, strutturata per una specie di missione dei giovani verso i giovani. E quindi Papa vorrebbe, vorremmo che desse un là in questa direzione. L'appuntamento al Santuario della Guardia si conclude nella sala del caminetto, dove il Pontefice pranza con oltre 100 persone, tra poveri, rifugiati, senza fissa dimora e detenuti. Coloro ai quali abbiamo chiesto se avevano piacere, i 130 che sono su, hanno tutti risposto con un entusiasmo inimmaginabile. Per loro è un grande onore e il sapere di non essere senza volto è importantissimo. Le emergenze di quest'ultimo periodo riguardano soprattutto le famiglie, le famiglie in difficoltà, in difficoltà abitativa e le persone senza dimora che in qualche modo stanno crescendo. Stanno crescendo anche per persone che vengono da altri paesi, che vengono in qualche modo rifiutate dalla nostra società. Dopo un lungo cammino di attesa, mi riferisco ai digniegati, che dovranno trovare, se siamo veramente cristiani, uno sbocco, un'accoglienza. Discreto e intimo è l'appuntamento all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini, dove Papa Francesco incontra i piccoli pazienti di vari reparti, insieme con le famiglie, e sottolinea che la sofferenza dei bambini è la più dura da accettare. Ricordando l'atto d'amore del senatore Gerolamo Gaslini, che fondò la struttura per onorare la figlia morta in tenera età, il pontefice auspica che possa continuare ad essere in Italia e nel mondo simbolo di generosità e di solidarietà. La visita a Genova si conclude con la celebrazione eucaristica in Piazzale Kennedy. Dinanzi a migliaia di persone, Papa Bergoglio insiste nell'omelia intorno ai temi della preghiera e dell'annuncio, invitando i genovesi a essere pescatori di uomini. Il Signore, che non apprezza gli agi e le comodità, ci vuole in uscita, liberi dalla tentazione di accontentarci quando stiamo bene e abbiamo tutto sotto controllo. E per gettare ogni giorno l'ancora in Dio, il pontefice nuovamente ribadisce il potere della preghiera, che collega cielo e terra. Non un modo per stare un po' in pace con se stessi, ma un modo per portare tutto a Dio, mettersi in gioco per intercedere, insistendo assiduamente gli uni per gli altri. Ecco il nostro potere, non prevalere o gridare più forte secondo la logica di questo mondo, ma esercitare la forza mite della preghiera, con la quale si possono anche fermare le guerre e ottenere la pace. La immagine, che non è solo immagine, ma sostanza, di un Papa Francesco che fa meravigliare i lontani soprattutto, sono le immagini che dice come all'interno di una cultura moderna che sembrerebbe agnostica, sembrerebbe fatalista. No, c'è una grandissima attesa. Se trovi tu la lunghezza d'onda da te, annunciatore, che non vuoi imporre niente, ma devi solo trasmettere in qualche maniera prima con la testimonianza, poi anche con la parola, se lui te lo chiede, allora c'è veramente la dinamica della nuova evangelizzazione. Non bisogna parlarne più di nuove evangelizzazioni, bisogna farla a questo punto. La predica, l'omelia del Santo Padre, ha insistito molto sul tema della intercessione, che è uno dei nostri compiti, e quindi è stato un forte richiamo alla preghiera, al compito della preghiera che abbiamo come comunità cristiana. E dall'altra parte la preghiera è un po' come il motore, la sorgente, per poter evangelizzare la società, la società a tutti i livelli, che sta perdendo sempre di più la propria umanità, oltre che la fede, perdendo la fede si perde l'umanità, e che pertanto attende, nello smarrimento delle nostre città, attende una luce, una luce di speranza, che gli faccia ritrovare il volto di Dio, ma quindi anche di riflesso il volto umano.